Primo anno di ruolo vicino casa, una ventina di anni di precariato. 33 anni, sono una vecchia insegnante. Ho avuto una titolarità a Milano, per cui mi è cambiato la vita. Il culmine della mia carriera, un momento gioioso, festivo invece l'ho vissuto con drammaticità, si può dire. Sono di Messina e lavoro qui, sono stata in messa in ruolo sulla provincia di Catania. Grazie al concorso del 2012. Si sentiva la necessità, avevamo la richiesta da parte dei colleghi, di avere proprio degli approfondimenti. Consideriamo che a Catania sono stati assunti 1111, che poi nuovi alcuni non sono, perché hanno anche vent'anni di precariato. Però il ruolo è una cosa diversa e ci sono naturalmente dei diritti e dei doveri che sono un po' diversi, come contrattualmente parlando, rispetto a quelli del precario. Per cui oggi siamo qui proprio per approfondire questi argomenti. Quella, né?